Buongiorno a tutti, benvenuti a questo secondo appuntamento sulla blockchain. Vi ricordo che questi appuntamenti sono, questi corsi che facciamo, sono corsi congiunti Rui Agid, li facciamo diciamo all'interno del protocollo d'intesa ormai consolidato da queste due istituzioni, siamo oggi al secondo appuntamento della blockchain, nel primo appuntamento abbiamo visto con il nostro docente Pietro Marchionni la parte introduttiva, un po' esplicativa del paradigma blockchain, oggi in questa seconda parte vedremo le differenze che comportano per applicazioni di servizi decentralizzati rispetto alle modalità di regolazione delle applicazioni di servizi centralizzati, quindi oggi questo sarà il focus. Come sempre con noi abbiamo dal mondo delle università Alessandro Giordano, oggi della Federico II, docente di marketing e trasformazione digitale della Federico II di Napoli e direttore scientifico del programma Ruralac. che ci darà anche un overview dell'applicazione della blockchain nell'ambito Agri-Food. Prima di dare la parola al nostro relatore, quindi a Pietro di Agid per iniziare, vi ricordo come sempre che i nostri incontri sono registrati, la registrazione però sarà resa disponibile sul nostro sito, così come anche le vostre domande a cui cercheremo di rispondere oggi, ma che pubblicheremo in forma di facca sul nostro sito. Rilasceremo, ve lo dico perché è una delle domande più ricorrenti, rilasceremo un attestato di partecipazione per chi mi farà richiesta compilando l'apposita survey, ma lo rilasceremo soltanto a fine ciclo e poi diciamo a fine ciclo avvieremo la produzione di questi attestati e vi li manderemo all'indirizzo che avete comunicato. Mi raccomando scrivete l'indirizzo per bene, usate sempre lo stesso perché poi ci è capitato nel corso delle settimane scorse che qualcuno diceva di non averlo ricevuto, in realtà abbiamo scoperto o che l'indirizzo era sbagliato oppure che aveva cambiato indirizzo, comunque vi facciamo avere l'attestato senza problemi. Allora io per il momento vi ringrazio, vi auguro un buon seminario e do la parola a Pietro Marchionni per avviare questa seconda parte sulla blockchain. Prego Pietro. Grazie, grazie, buon pomeriggio a tutti quanti, mi metto in condivisione lo schermo così andiamo diretti al tema della giornata. Allora Ok, come anticipato oggi passiamo un po' dalla parte di spiegazione di base della tecnologia blockchain a dare maggiori dettagli su quali sono gli utilizzi di questa blockchain, via slide vediamo un po' la base, ma poi mi piacerà dare degli esempi diretti su come questa tecnologia viene utilizzata. Quindi parliamo delle DAPS, dei token e del contesto regolatorio per queste tecnologie. Ho messo due slide per ricordare a chi non fosse stato presente la volta scorsa, non avesse avuto tempo di vedere la presentazione, cos'è una blockchain che è un registro, un po' come i registri contabili di una volta, dove tutte le informazioni vengono messe inconcatenate con una sequenza di blocchi, una dietro l'altra, blockchain. Quindi ogni blocco è aggiunto solo in base al famoso consenso tra tutti i partecipanti della blockchain, semplicemente questo. Una DLT è una blockchain. È un po' più generalizzata perché non è detto che le utili tecnologie che stanno uscendo abbiano una struttura a blocchi, ma strutture negate in un altro modo, ecco perché è stato generalizzato il nome come distribuito e leggere tecnologie, che vuol dire tecnologie a registri distribuiti. Siccome oggi parliamo di decentralizzazione, ho avuto a ricapitolare anche la differenza tra decentralizzazione, distribuzione e centralizzazione, in una centralizzazione abbiamo un sistema che gestisce i servizi verso l'esterno, che è il classico modello client server. In un sistema distribuito il server può essere distribuito su più nodi o servizi affinché possa gestire comunque le stesse informazioni, nello stesso servizio, ma comunque a punto di vista logico è tendenzialmente centralizzato. In un modo, in un modello decentralizzato, la decisione non è più decisa, non è più presa in un singolo punto, ma viene presa con un consenso di più parti che fanno parte di questo processo decisionale. Un'altra volta ricordiamo che blockchain possono essere pubbliche permissioned e private, tendenzialmente per quanto riguarda la parte dei servizi pubblici andiamo nel modello permissioned, quindi in quello centrale, dove l'accesso in lettura è pubblico e quindi tutti possono accedere ai sistemi, ma in scrittura è basato su permessi. Quindi, fondamentalmente, chi può scrivere informazioni su queste blockchain è prevalutato affinché le informazioni siano messe, siano all'interno in un certo contesto. L'esempio classico è quello che abbiamo fatto anche l'altra volta, nella blockchain europea EBSI. Dopo il velocissimo recap, voglio dare una piccola differenziazione perché anche in questo caso ho trovato molta confusione in giro nella differenza tra wallet e account. Perché? Perché a volte è usato in maniera intercambiabile. Questo perché? Perché i wallet sono applicazioni che permettono di gestire un account o anche più di uno. Molte volte gestiscono un solo account e quindi c'è una corrispondenza, un diritto, uno a uno tra wallet e account. Però il wallet è tendenzialmente un'applicazione, web o mobile o che gira su altri sistemi, ma che gestisce gli account. Quindi cosa vuol dire gestire gli account? Gestiscono le chiavi che permettono di accedere all'account. Normalmente gli account, lo vediamo nella slide successiva, hanno bisogno di una chiave di accesso che è una chiave digitografica. Naturalmente nella maggioranza dei casi c'è un distacco tra wallet e account, per cui un account può essere gestito anche da più wallet, anche per certi versi in maniera parallela, perché poi fondamentalmente le operazioni sono atomiche. E viceversa un wallet può gestire più account. Un esempio classico di wallet è Metamask, perché è quello che viene utilizzato spesso, soprattutto dagli sviluppatori, per poter aprire uno più account su varie blockchain, su varie VLT. Quindi fondamentalmente quando si parla di un sistema di LT, noi parliamo di account. E quindi cos'è un account? Lasciamo perdere magari la parte tecnica sotto, ma sono entità o indirizzi in una blockchain. Quindi un account è fondamentalmente come un indirizzo dentro una blockchain. in analogamente a quello che può succedere in un indirizzo IP dentro una rete internet, oppure indirizzo di casa in una rete stradale. Fondamentalmente è una correlazione tra un possessore, una persona, non è una persona fisica, 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 o è un'entità giuridica o altro, e un indirizzo all'interno della blockchain. Cosa possono fare gli account? Possono inviare e ricevere le transazioni. ricordo sempre che le blockchain sono sistemi transazionali, in cui esiste sempre un trasporto di un qualche cosa, che non ho detto che siano valute, possono essere dati di qualsiasi tipo, da un account a un altro, oppure possono essere anche dall'account a se stesso, in certe condizioni, ma adesso non andiamo a vedere le varie eccezioni. Normalmente una blockchain, in ogni transazione esiste un passaggio di un dato da un account a un altro. Gli account, per esempio su Ethereum, molte volte io lo riscrivo, ma prendo come esempio Ethereum perché è molto utilizzato, e quindi è più facile per me usarla come esempio, un account e quindi un indirizzo può essere relativo sia a un utente, ma anche uno smart contact. Quindi anche uno smart contact ha un suo indirizzo dove è agganciato alla rete. Quindi, per esempio, in Ethereum ci sono vari dati tecnici che per ogni account, cioè dove definiscono la quantità di Ethereum posseduta, dove sono i dati fisici, se c'è uno smart contact, dove è il codice smart contact, e così via. Però tendenzialmente io tenderei a associare un account a un indirizzo, quindi a una proprietà, chiamiamola proprietà, poi non è una proprietà fisica naturalmente, una proprietà che un utente detiene all'interno di un blockchain. Naturalmente, come viene detenuta, attraverso una coppia di chiavi, come abbiamo detto, che permettono l'accesso a questo account. Ora, un altro concetto che secondo me è molto, che a volte confonde, è il concetto di moneta virtuale. Molte volte le monete virtuali, Ethereum è proprio il classico, non è nata come moneta virtuale. Mentre il Bitcoin è nata effettivamente come moneta, Ethereum fondamentalmente è nato da un altro concetto, che è quello del gas. Fondamentalmente il gas in una blockchain è il carburante che viene utilizzato dalla blockchain per operare. Cosa vuol dire carburante? Se io faccio un'operazione all'interno della blockchain, questa operazione, affinché venga confermata da tutti i nodi e aggiunta alla blockchain, consuma una certa quantità di risorse, come si dice, sforzo computazionale per la verifica, per l'assalvataggio, per la configurazione e la sincronizzazione. Questo sforzo computazionale è misurato dal gas. Quindi il gas proprio prende quel nome, proprio perché è come il carburante di un'automobile. Quindi, quando io faccio una transazione su Ethereum, gli associo una quantità di gas, che mi serve affinché questa transazione possa operare. È come se mettessi abbastanza benzina alla macchina per fare il romano. Naturalmente, se ne consumi meno, il gas mi rimane, se ne consumi più, non arrivo a destinazione. Quindi, il gas è esattamente quello. Che succede? Su Ethereum, il gas viene pagato con la moneta di Ethereum, che in questo caso è Ethereum, ha lo stesso nome dell'infrastruttura. Quindi, gli Ether, quindi la moneta virtuale di Ethereum, non è nata come cryptocurrency, ma è nata come un modo per pagare il gas, quindi per pagare le transazioni sulla rete. Poi, naturalmente, è stata utilizzata anche in altro modo. E questo perché? Perché il gas è un fattore fondamentale all'interno della blockchain. È uno dei fattori che permette a un blockchain di essere sicura. Vi faccio un esempio. Se io avessi uno smart content che consuma un gas infinito in cui non viene considerato il gas, questo smart content potrebbe prendere, in maniera infinita, ciclare e prendere tutte le risorse della blockchain e quindi bloccare l'intera network. Quindi il gas normalmente ha anche un limite, cioè c'è un limite di gas utilizzabile per ogni transazione. Questo permette ai software, quindi ai smart contract che operano all'interno della blockchain, di essere eseguiti all'interno di un contesto, quindi non poter consumare troppo. E quindi, da un lato, è una misura del reward, quindi del costo che viene dato da chi propone una transazione a chi la gestisce per eseguirla. Dall'altro, è una misura di sicurezza e di stabilità per una DLP. come vedete, dal punto di vista informatico non ha nulla a che vedere con le monete virtuali. Naturalmente poi Ethereum è stata utilizzata con una moneta virtuale per pagare questo gas, naturalmente per pagare Ethereum si sono usate monete fiat, quindi monete normali, l'euro e il dollaro, e quindi la moneta è stata utilizzata anche in altri modi. Andiamo avanti. Quindi, abbiamo parlato di smart content, ne abbiamo parlato l'altra volta, questa è la stessa presentazione l'altra volta, la stessa, scusate, slide dell'altra volta. Gli smart content sono piccoli pezzi di software che possono lavorare all'interno della blockchain. In maniera adesso molto astratta, perché in realtà non lavorano sulla blockchain, la blockchain non registra, lavorano, vengono fatti girare dai nodi, sulle blockchain, sulle blockchain vengono solo registrati, l'input e l'out. Quindi, come abbiamo detto, i smart content hanno sia un indirizzo, e l'abbiamo visto nelle slide precedenti, quindi un address, e hanno anche un costo, un gas, un costo di esecuzione. E' importante perché uno smart content non può essere, non può vivere dentro una blockchain come Ethereum in maniera autonoma, ok? deve essere posseduto da un account. Quindi c'è sempre un account, normalmente, che ha l'ownership, quindi possiede questo smart content, e ha il permesso di eseguirlo, ed effettivamente anche, in molti casi, di distruggerlo, perché i smart content, essendo dei software che girano interno ai nodi, possono essere anche distrutti, cioè tolti dalle memorie nodi, e quindi non più eseguibili, ok? Quindi il possessare uno smart content è quello che lo esegue, naturalmente fornendo i dati di input opportuni, e il gas che serve a farlo girare, pagato sempre in Ethereum. Per assurdo, non per assurdo, ma in realtà, se io non avessi gas, non potrei eseguire uno smart content, perché? Perché non ho abbastanza benzina per pagare, diciamo, i nodi che gestiscono la blockchain, e quindi che lo eseguono. Lo stesso smart content, quando viene fatto eseguire dall'owner, quindi dall'account del possessore, viene eseguito tra tutti i nodi della rete, e solo in caso in cui la maggioranza verifichi che il risultato è lo stesso, allora il risultato viene accettato e messo sulla blockchain. Quindi non è lo smart content fisicamente che sta sulla blockchain, sono i risultati della transazione, in input e in output, normalmente in output, che vengono messi sulla blockchain come risultato di quella operazione. infatti, se uno smart content viene eseguito in read only, tipo, supponiamo che c'è uno smart content che mi dia il valore del dollaro in questo istante, e io lo leggo, quell'azione lettura, benché lo esegue, non genera nessuna transazione sulla blockchain. perché? Perché non hai fatto un cambiamento di stato, quindi le blockchain registrano transazioni, ma registrano transazioni e cambiano stato. Se io vado solo a leggere, non ha nessun senso andare a registrare la mia lettura della blockchain, anche perché registrare sulla blockchain, non è registrato in un altro modo, però, sui log del nodo come evento, però sulla blockchain, sulla rete, sulla catena pubblica a tutti, la lettura di un dato sulla smart content o sulla blockchain non lascia traccia pubblica. Quindi, come vediamo, stiamo mettendo i smart content all'interno di un certo contesto, e il contesto è, sono possibili da qualcuno, hanno bisogno di un certo gas per essere fatti girare, e sulla chain viene registrato solo il risultato della loro eseguzione. questa è anche la slide dell'altra volta, gli smart content sono evoluti nel tempo, e sono nati gli oracoli, le central application, le DAC, che sono le centrali di Solomus Corporation, e le DAO, che sono organization, che sono fondamentalmente una generalizzazione delle corporation. Andiamo a vedere un attimo più in dettaglio cosa sono queste cose. Gli oracoli, e in alto a destra vedete due link di siti che gestiscono il genero degli oracoli. Cosa sono? Come abbiamo detto, gli smart content vengono eseguiti da un account, da un owner, e tutti i nodi li eseguono. Naturalmente, essendo i nodi di una rete come Ethereum distribuiti nel mondo, la probabilità che tutti i nodi eseguono lo stesso smart content e nello stesso istante è quasi nulla. E quindi, qual è la problematica correlata? Che se lo smart content vuol prendere un dato dal mondo esterno, che succede sempre, naturalmente, supponiamoci se lo smart content mi dice vendi tutte le tue azioni Amazon se raggiungono a un certo livello. Se io faccio eseguire questa operazione nella centona del mondo, anche semicontemporaneamente, non otterrei mai lo stesso risultato. E quindi c'è un problema nelle blockchain. i smart content quando vanno a prendere un dato fuori a blockchain rischiano di non essere mai accettati perché il risultato finale potrebbe essere diverso a seconda anche dell'istante temporale in cui questo smart content viene eseguito. Ecco perché sono nati gli oracoli. Sono nati perché per risolvere questo problema. In realtà l'oracolo cosa fa? È anche lui uno smart content. Prende un dato, e l'esempio di prima è esatto, prende il valore delle azioni di Amazon in questo istante e lo mette sulla blockchain. Gli altri smart contract, quelli che vanno a vedere se vendono le mie azioni in base a quel valore, non guardano sullo stock market in tempo reale, ma guardano con dato sulla blockchain, che è uguale per tutti perché è mutabile. E quindi questo garantisce che tutti i nodi che eseguono con i smart content possano garantire, nel caso che lo smart contract sia delitiero, lo stesso risultato anche se viene eseguito in tempi effettivamente non identici, non in parallelo. Quindi, quello che serve per l'oracolo è risolvere alcune limitazioni delle blockchain e di smart content nell'interazione tra un mondo immutabile e quello delle blockchain a un mondo molto mutabile che è quello che conosciamo tutti i giorni. Ci sono smart content, ci sono oracoli che fanno tantissime cose, tra cui guardano Valoria e Borsa, guardano il meteo e qualsiasi cosa e ci sono dei servizi che proprio dinamizzano questa cosa e fanno in modo di essere configurabili per prendere un dato a mondo esterno e mettere la sua blockchain proprio per questo utilizzo. Anche le DAO, le DAC, le DAF sono tutti smart content quindi alla fine sono nomi belli, interessanti ma sono come gli oracoli un altro modo per usare i smart content. I smart content sono fondamentalmente la generalizzazione del fatto che io posso scrivere un pezzo di codice sulla blockchain. Nel caso gli oracoli è preso un pezzo di codice che prende un valore dall'esterno della blockchain e lo mette dentro ad esempio il valore della borsa di Amazon. Nell'altro caso per esempio nel caso le DAO e le DAC cosa fanno i smart content? Da un lato la prima è decentralizzata quindi sono eseguiti contemporaneamente come tutti i smart content da tutti noi. Dalla scusa prego Amazon come chiunque altro perché se no avete parlato di Amazon e non di crolla il titolo Amazon o sale perché la gruia ma Amazon come chiunque altro insomma forse perché crescono molto quindi speriamo di averle comprate un anno fa sicuramente no no Amazon come qualsiasi altra azione o qualsiasi altro valore che oscilla nel tempo quindi cosa fanno le DAO e le DAC sono smart content che eseguono simula il comportamento delle aziende e quindi cosa vuol dire fondamentalmente rappresentano le azioni e le regole delle aziende attraverso uno smart contract quindi in maniera come si può dire immutabili con regole che non cambiano nel tempo e quindi sono nate nel tempo delle società virtuali che sono i cui i cui regolamenti sono espressi da regole all'interno uno smart contract in cui i partecipanti possono partecipare liberamente liberamente o no poi dipende da come sono fatti naturalmente possono partecipare un chain e quindi normalmente avere un valore di ritorno come gli azionisti di una società nel caso in cui la società ritorni un valore economico naturalmente che garanzia si ha da un lato è che le regole sono quali per tutti e quindi le regole vengono applicate in maniera automatica in maniera immutabile dall'altro che e questo è una delle problematiche che si stanno analizzando da vari enti regolatori è complesso andare a vedere a quale legislazione queste aziende virtuali fanno riferimento perché se io ho una società virtuale che opera all'interno della blockchain il cui comportamento è garantito da nodi che stanno in tutto il mondo i cui partecipanti sono possessori di indirizzi a quel punto comincio ad avere una difficoltà a capire come regolamentare o come operare o come fare in modo che questa organizzazione virtuale opere all'interno in un contesto regolatorio quindi appositamente sono state create queste organizzazioni virtuali ma dall'altro lato hanno creato da un lato un grande vantaggio cioè la certezza delle regole dall'altro molti dubbi su come andare a verificare che queste organizzazioni lavorino in maniera adeguata vi faccio un esempio che sta andando molto in modo ottimamente si chiamano DeFi Decentralized Finance supponiamo che io voglio avere un ho i miei bitcoin o ethereum o qualsiasi altra moneta virtuale e voglio fare il trading su bitcoin posso andare in un sito di quelli che fanno trading ce ne stanno centinaia online registrarmi naturalmente secondo la legge devo fare tutti i processi e dopo aver fatto quest'azione mi metto lì a fare il mio trading a qual punto io ho un problema due problemi uno che naturalmente sono interroggiato in un contesto relatorio e che per me va bene ma per altre persone potrebbero andare bene il secondo problema è che quel sito quel gestore si prende come tutte le banche ma tutti i gestori una fetta un fee per ognuna delle mie transazioni sono nate dei gestori di compravendita di monete virtuali che non esistono fisicamente sono smart contract e quindi ho la certezza per esempio della nonicità e questa certezza poi non è neanche tanto vera ma mettiamola così è il sentore di essere in un ambito anonimo ma d'altro canto e questo è più importante ho la possibilità di fare la transazione a costo zero cioè senza margine di un intermediario che poi è il motivo per cui sono nate del blockchain cioè quello di disintermediare quindi molti sistemi di trading online che sono nati adesso si trovano la concorrenza giusta 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 dal punto di vista logico della blockchain delle blockchain stesse cioè delle tecnologie che usano perché blockchain sono proprio nate per disintermediare questi operatori e quindi c'è quello che si chiama decentralized finance che sono insieme gli smart contract che operano in maniera decentralizzata e a volte anche non verificabile perché non si sa neanche chi è l'owner di quello smart contract ok però permettono transazioni finanziarie a tutti i partecipanti è importante per noi avere coscienza di questo perché dobbiamo avere coscienza ecco perché abbiamo ottenuto un minimo di più messo un po' più di tempo su questo su questo concetto perché questo va crea dei problemi di regolamentari non indifferenti io penso che qui Jürgen se mi sbaglio devo lasciare la parola al confermo ringrazio Pietro per diciamo questo primo questa prima parte mentre carico il materiale c'è un video che vorremmo mandarvi prima dell'intervento del professore Alessandro Giordano ti leggo la domanda delle domande così nel frattempo ci pensi buongiorno a tutti allora Simonetta De Felicis buon pomeriggio a tutti e grazie agli organizzatori la domanda è chi farà e come si farà una corretta alfabetizzazione di tutte le persone anziane o poco informatizzate ecco io su questa domanda mi preparo un tanto la condizione è complessa la condizione di base l'anziano medio non conosce come funzionano i siti web indirizzi IP e tutto naturalmente tutti questi sistemi hanno bisogno come i sistemi di oggi ma anche quelli di ieri certo non chiediamo agli anziani di andare a mettere le schede perforate 40 anni fa nei calcolatori hanno bisogno di un'interfaccia che disintermedi questa complessità dalla vita quotidiana dei cittadini quindi è una domanda giustissima e quell'interfaccia che nel caso presente degli address Ernie Wallet sarà sempre necessaria naturalmente ecco gli lascio la parola a Giurgo sì allora intanto avviamo il video un secondo soltanto allora diciamo così ci siamo quasi ecco qua siamo qui a Casella in Pittari perché da un po' di anni un gruppo di giovani appassionati da un pugno di piani antichi ha messo su tutto un sistema di imprese emendate quindi cooperanti con le comunità per riattivare le comunità sulla base diciamo della coltivazione di quelli che oggi sono definiti grani antichi e quindi la necessità di oggi in questa contemporaneità nella idea di voler vivere ancora di relazione con la terra e quindi di agricoltura ha una necessità di fondo quella là di farle le cose di farle con una convinzione importante per creare questo ponte tra le tecnologie e le necessità quindi di questa comunità abbiamo dovuto mettere in campo diverse forze quindi abbiamo dovuto chiamare la comunità degli hacker anzi degli rural hacker tuttavia questa volta si sono dovuti confrontare con un ambiente ben diverso e hanno dovuto lavorare sodo prima di poter dire la loro per conquistarsi anche la fiducia delle imprese e soprattutto delle comunità con l'idea di costruire logiche sistemi valoriali altri un esempio è quello che stiamo facendo con i miscugli che è un lavoro che in qualche modo i nostri antenati hanno sempre fatto l'essenza della ricerca partecipativa è quella di coinvolgere nella ricerca noi parliamo della ricerca di agricoltura ma questo potrebbe valere per altri settori della ricerca le persone che dai risultati di quella ricerca possono trarre dei vantaggi o degli svantaggi è molto interessante a me piace molto la metafora del sarto perché tu hai questi vestiti che puoi adattare alle esigenze delle persone alle esigenze in questo caso degli agricoltori e molto spesso gli agricoltori sono all'interno di questo storytelling all'interno di questa conversazione e hanno un ruolo fondamentale perché si parte dalle loro esigenze si parte dalle esigenze degli utenti se vogliamo macinare a pietra e macinare a pietra dobbiamo applicare tutta la tecnologia a monte della macina a pietra che va dal selezionatore ottico dalla tavola gravimetrica tutta la tecnologia che adesso c'è per avere una cariosside sana per essere per la macina visto da quest'ottica tradizione e innovazione non sono più due due sensi antitetici ma in qualche modo recuperano il valore se vogliamo anche etimologico quindi della tradizione quindi il tramandarsi e quindi l'innovazione la tradizione sono sempre un passaggio di mani in un'ottica evolutiva grazie mille grazie per aver condiviso questo video che è servito un po' a spezzare anche il ritmo di una lezione densa ma devo dire tra le migliori che io abbia ascoltato in questi anni sul tema e su questo non posso che fare i miei complimenti a Pietro Marchionni e l'organizzazione è un tema complesso davvero a Pietro complimenti perché credo che sia la prima volta che credo si sia riuscito a comprendere pur nella sua completezza questo tema e non è un caso che questo video arrivi anche un po' a valle se vogliamo della domanda posta dalla nostra ascoltatrice quindi come dire avete visto qui dei giovani ricercatori dell'Università Federico II che cercano di far dialogare sulle tecnologie di tecnologie 4.0 con dei contadini delle aree interne delle aree rurali come vedete io vi parlo dal polo tecnologico di San Giovanni a Tedduccio dove tra le aree varie cose noi abbiamo questo laboratorio che si chiama Societing 4.0 che si occupa proprio di questo cioè di fare la mediazione culturale simbolica rispetto alle innovazioni tecnologiche con la società quindi l'ascoltatrice parlava di anziani abbiamo visto qui dei contadini c'è quindi il discorso c'era pensato quindi gli organizzatori avevano pensato interessante far calare a terra quindi questo discorso che per sua natura ha a che fare con il massimo le dinamiche dell'immateriale con un reparto strategico un comparto strategico quello dell'agri-food sostanzialmente che paradossalmente è quello che può trare maggiori vantaggi da questa nuova tecnologia quindi avete visto dalle parole di questo video mi sono appuntato tre cose il primo è coinvolgere nella ricerca a fare una ricerca partecipata che dialogare quindi raccontando i vantaggi e gli svantaggi di chi può subirli o avvantaggiarsi appunto di questa tecnologia è stato quello il modo con cui abbiamo parlato a quei contadini non siamo rientrati a fare le lezioni di robotica o di IoT o di blockchain ma andandoli lavorando insieme facendo dei progetti e soprattutto mostrando loro che vantaggi tangibili potevano avere vi assicuro che oggi quei produttori del cilento di garanti che sono dotati di tecnologia hanno un supporto blockchain lo utilizzano perché hanno subito inglobato nelle loro dinamiche tutti i vantaggi che questo voleva portare poi dopo vi racconterò lì hanno fatto un progetto di filiera certificata su grani autoctoni per un prodotto di nicchia però ad alto valore aggiunto quindi lì c'è una comunità che produce una farina che è venduta nel mondo e questo vantaggio della blockchain della certificazione reale diciamo sulla provenienza delle produzioni è per loro un vantaggio competitivo e vi mostrerò in che modo c'è l'approccio sartoriale quindi per un mondo come quello italiano fatto da tante piccole e medie imprese da distretti eccetera la necessità poi di ritagliare di uscire sulle esigenze personali particolari dei vari comparti e poi c'è il discorso secondo me di riuscire a tenere insieme tradizione e innovazione quindi uscire fuori da questo approccio luddista e da questa dialettica che come vorreste vedere vuole vedere contrapposti sostanzialmente l'artigianato l'agricoltura di qualità il made in Italy con le tecnologie in realtà dobbiamo essere bravi noi e anche voi poi parleremo del ruolo che hanno i decision maker in tutto questo a far sì che le tecnologie siano addomesticate a quelli che sono gli scopi che fanno forti sostanzialmente il grande made in Italy nel mondo io lancerei subito un altro video l'ultimo ve lo promettiamo che fa il focus proprio sulla blockchain così da entrare nel vivo e poi eventualmente siamo a disposizione anche per delle domande ciao vorrei parlarti di tutta l'attenzione che ricevo dalla blockchain che monitora i miei movimenti quotidiani io e i miei amici amiamo la nuova rete condivisa blockchain è un po' come essere sui social un pomodoro sa quanto può essere difficile guadagnarsi la fiducia una volta che si trovi nella compagnia della blockchain è facile mescolarsi anche a noi pomodori piace sapere che i nostri dati sono al sicuro la blockchain sigilia il coperchio montando questa sicurezza e ha un protocollo di validazione dei dati che garantisce un sistema praticamente inespugnabile da qualsiasi violazione la rete peer-to-peer decentra e semplifica il processo eliminando intermediari la logica della trasparenza della blockchain ti permette di sapere tutto di noi così non abbiamo assolutamente niente da nascondere e i dati di ogni nostra transazione sono bloccati nessuno può cancellarli o modificarli anche volendo puoi sapere dove siamo cresciuti e quali sono stati i nostri viaggi lungo tutta la filiera perché puoi facilmente tracciarci potresti anche vedere in quale azienda agricola siamo cresciuti come ci hanno nutrito e dove siamo stati lavorati prima di arrivare sugli scaffali del tuo supermercato la blockchain consente di identificare le violazioni sulla sicurezza proteggendo i consumatori da potenziali pericoli l'accesso istantaneo ai dati per esempio sui volumi di vendita o sui tempi di consegna consente ai clienti di avere una maggiore trasparenza sui prodotti gli smart contracts abilitano l'attivazione automatica delle transazioni in base a istruzioni preimpostate la blockchain semplifica la gestione della catena di approvvigionamento eliminando inutili intermediazioni unire i due mondi del cibo fisico e di quello digitale è una delle molte sfide strategiche che la blockchain o qualsiasi altra tecnologia digitale utilizzata per questo scopo ad oggi affrontano la blockchain è una tecnologia ancora giovane non ancora soddisfacente in termini di performance o di capacità di diffusione è necessario sviluppare casi d'uso per definire le soluzioni architetturali migliori e le migliori misure di sicurezza la blockchain offre significativi miglioramenti nel settore dell'agri-food che meritano di essere approfonditi accuratamente bene questo è un video realizzato ormai già qualche anno fa dalla commissione europea di cui abbiamo curato l'edizione italiana quindi come avete visto il mercato diciamo dell'agri-food come dire è molto dentro le implementazioni di queste tecnologie vi dico solo un dato che vi dà la misura dell'importanza di questo settore in agricoltura che in crescita di costante ha raggiunto nel 2020 i 540 milioni di euro di investimenti con un grande incremento malgrado la pandemia rispetto al 2019 tuttavia c'è da dire che come avete visto anche nella chiusura del video c'è molto ancora da fare da sperimentare perché in verità ad oggi se ne sono intuite le potenzialità ma sono utilizzate soprattutto a scopo di marketing quindi a comunicare un valore aggiunto ma anche diciamocelo chiamamente magari a posizionarsi come chi si occupa di come dire di cose innovative di hype innovativi gli agricoltori soprattutto quelli di qualità non quelli che fanno grande anche il nostro il nostro paese è come se non avessero ancora colto i vantaggi che possono trarre da questa tecnologia anche tra le aziende più innovative ancora molto basso c'è un'indagine dell'osservatorio Smartaggy Food del Politecnico di Milano un'indagine molto recente del 2021 che racconta appunto quali tecnologie sono utilizzate maggiormente e c'è da dire che a differenza di software per la gestione di fornitori del magazzino che sono utilizzate per il 75% delle aziende dispositivi portatili per il 57% eccetera data analytics il 19% è applicato il 9% è sperimentato il cloud il 18% applicato dalle aziende e per il 10% è fatta sperimentazione su quello che invece la blockchain si limitano i numeri al 2% quindi sono soltanto il 2 quelli che lo sperimentano realmente e si inverte la proporzione il 6 quelli che invece l'hanno fatto almeno per capire un po' di cosa si tratta tuttavia ci sono un po' tre preoccupazioni che mi sono segnato per voi oggi almeno tre diciamo che come dire per il mondo in cui siamo immersi quindi nella dimensione anche diciamo dell'infosfera queste tecnologie 4.0 integrate quindi non solo la blockchain ma anche tutto il sistema di sensori quindi di big data sui quali si innesta come dire rappresenta uno dei motori più importanti per la governance degli standard e non è un caso che chi è che si sta muovendo molto in questa direzione sono i grandi colossi della distribuzione del cibo pensate che Walmart che è il colosso americano della GDO richiede ormai a tutti i suoi fornitori la tracciabilità e il suo partner è IBM ok quindi sostanzialmente anche tutti i giganti della supply chain alimentare globale hanno creato un consorzio quindi con Dole Kroger aziende come Nestle Tyson Food la stessa Walmart per migliorare la trasparenza della filiera con la tecnologia blockchain la loro lotta diciamo è molto concentrata contro la contaminazione la diffusione di patologie gli sprechi e su diciamo tutte quelle caratteristiche che hanno a che fare con la sicurezza alimentare quindi attenzione stavo dicendo quindi questi grandi colossi un'altra grande piattaforma è quella di Alibaba che con la Bayer ha creato questo sistema di monitoraggio dei prodotti dalle materie prime tutti i processi ok quindi che lavora come dire nel creare delle barriere alle aziende agricole che in qualche modo possono avere a che fare con loro questo cosa perché ve lo pongo come primo warming perché questi attori forti del sistema dell'agri-food mondiale stanno dando una volata a questo strumento con la blockchain con degli effetti che forse si potranno vedere solo in seguito ma che è possibile immaginare cioè tutto questo esclude dalla catena di fornitura di tanti piccoli agricoltori agricoltori di qualità le aziende agricole che fanno forte il nostro tessuto economico e tutto questo può comunque condizionare il mercato in tempi rapidi quindi selezionando anche in tempo reale un set di informazioni che porta ad acquistare o non acquistare determinati prodotti o comunque a tenere fuori come diciamo prodotti che sono fuori dagli standard quindi questo per dire che essere o meno dentro a delle tecnologie non è una scelta neutra cioè vanno fatti i conti con un discorso sistemico il secondo warning importante e li pongo adesso per poi darle come indicazioni per lavorare anche sulla parte diciamo del decision making c'è un discorso sui dati cioè di chi sono i dati è famoso in tutto il mondo il fatto di come aziende come la Monsanto per esempio regalino piattaforme come trattori quant'altro in cambio di avere indietro diciamo delle informazioni e dei dati e questo in qualche modo dà delle come dire delle posizioni strategiche molto evolute sui sistemi di controllo della filiera quindi della della produzione e un problema grandissimo che purtroppo ce lo possiamo dire qui fuori di retorica e è stato spiegato molto molto bene di come anzi è il titolo di questo incontro parliamo di sistemi distribuiti e quindi attenzione il warning è che la rete prima di essere un'infrastruttura tecnologica è un'etica e purtroppo noi siamo in una dimensione devo dire per me che mi cimento molto sul campo quindi lavoro con il sistema anche delle imprese dove le catene di fornitura sono tipicamente caratterizzate dalla competizione non della cooperazione quindi spesso c'è una mancanza di fiducia tra compratori e venditori che archiviano separatamente i dati commerciali finanziari di produzione e questo è un aspetto di contesto molto rilevante da tenere in considerazione perché può modificare la tecnologia e non la può far esprimere e io direi di basare il tutto diciamo una strategia potrebbe essere quella di fare un po' un racconto una narrazione della tecnologia partendo dai vantaggi potenziali anzi reali che può avere verso gli utilizzatori quindi questo significa che gli agricoltori le aziende agricole sono avvantaggiati sui pagamenti delle assegurazioni in caso dei danni climatici possono tutelare le loro proprietà in seguito alla registrazione dei terreni tracciare la provenienza dei prodotti per evitare quindi il commercio illegale si possono anche monitorare in maniera oggettiva verificare riferire i dati sulla sostenibilità ambientale di certi progetti e quindi portare maggiore trasparenza nelle file agricole e magari iniziare a creare anche delle premialità per la riduzione dei degli input in campo e quindi questo è un sistema che inizia a far diventare concreto un discorso sulla sostenibilità che non diventa più un discorso come dire visto nell'alvio della beneficenza della responsabilità sociale di impresa ma inizia a diventare qualcosa che entra quindi anche nelle dinamiche proprio strutturali dell'impresa io credo come diceva il video della commissione europea che è importante che voi fiacciate promotori di casi di casi d'uso e di sperimentazioni concrete questo ci aiuterebbe molto quindi creando questa sinergia tra il mondo dell'università il mondo dei decision maker e il mondo delle imprese sostanzialmente quindi un po' come noi lavoriamo all'interno del nostro laboratorio ci dà la possibilità di mettere a fuoco delle soluzioni utili cioè quindi capire quali problemi poi concreti può risolvere sui territori l'avete visto nel primo video nei campi di grano quindi risolvere realmente problemi tecnici e tecnologici e perché no anche delle barriere culturali è molto importante andare a approfondire le questioni giuridico amministrative legate per esempio come si diceva prima agli smart contracts e affrontare i temi il tema dei controlli sui rapporti di forza che si generano questo è importantissimo perché lasciare al mercato lo sviluppo delle tecnologie porta a dei problemi che sono sotto gli occhi di tutti cioè il fatto che noi per non esserci occupati in maniera seria per 30 anni di internet oggi abbiamo i nostri dati che sono in mano diciamo sostanzialmente a delle realtà che private che sono più forti degli stati e quindi attenzione perché la blockchain invece come abbiamo visto è quella tecnologia che fa in maniera pervasiva entrare il digitale quindi il dato digitale nel fisico e quindi non occuparci subito con urgenza di questi aspetti significerebbe svendere non soltanto quindi l'importantissimo patrimonio immateriale dei dati ma proprio le nostre produzioni quindi attenzione di andare oltre quindi la retorica dell'innovazione to-cur ci sono delle quindi delle cose che si possono fare quindi sperimentazione a punto di vista tecnologico abbiamo detto e delle possibili interazioni l'Europa sta facendo tanto su questo ci sono diversi strumenti a livello dell'Unione Europea e altri che stanno per venire fuori che hanno a che fare per lo sviluppo di tecnologie blockchain per il settore agroalimentare tra cui il programma di ricerca e innovazione Horizon Europe e dei programmi quadro pilota proprio di un partenariato europeo sulla blockchain che vede anche l'Italia tra i partecipanti è importante quindi una discussione una sperimentazione sulla contattualistica e gli scambi di denaro quindi tutti i problemi della sicurezza della privacy ed è importantissimo potremmo cominciare a fare da parte vostra una riflessione sui dati da un punto di vista sia nazionale che locale cioè c'è un problema di chi sono poi i dati di queste informazioni in Italia abbiamo due casi belli emblematici c'è uno in regione Emilia Romagna con la Data Valley e c'è un'esperienza molto interessante che porta avanti la Camera di Commercio di Salerno proprio con il nostro Ateneo su un data commons cioè sulla raccolta di dati prodotti a diversi livelli dati di mercato dati di sensori dati fatti dai satelliti per renderli fruibili al sistema della piccola e media impresa che non potrebbe averci accesso cioè prima si parlava di Amazon cioè Amazon ha una potenza di poter gestire elaborare dati che non è quella della piccola impresa italiana e quindi è importante che dei nuovi soggetti intermedi anzi una rete di decisori lavori a creare quindi questi queste architetture di dati rendere fruibili quindi per data commons abbiamo chiamato come un bene comune diciamo ai pubblici alla sua azienda questo proprio per regolamentare e controllare credo che sia un discorso importante i rapporti di forza che una nuova tecnologia può portare dentro che dirvi io mi fermerei qui sono a disposizione anche per domande approfondimenti inutile dire che queste tecnologie evolute devono aiutarci a prenderci cura dell'ambiente del suolo del clima della periversità dell'acqua e lo possono fare possono aiutarci a controllare il lavoro pulito e la dignità delle persone quindi ci sono dei progetti che lavorano anche verso il caporalato noi banalmente mettere incrociare i dati di quanto comodoro è prodotto in un campo e di quante persone timbano il cartellino per lavorarci fa capire se è verosimile o meno il rapporto tra lavoranti e produzioni ma soprattutto possono proteggere un patrimonio come quello del made in Italy nel mondo che oggi con fenomeni come l'Italian Sounding è messo come dire veramente sotto torchio perché noi abbiamo praticamente l'80% dei prodotti del made in Italy completi nel mondo sono finti prodotti made in Italy quindi sono dei fake si parla di Italian Sounding sono prodotti che sostanzialmente hanno un nome che ricorda l'Italia il parmesano ma sono prodotti in altre parti del mondo questo da un lato è un dato triste dal lato è un dato oggettivamente interessante perché ci dice che noi abbiamo ancora un mercato potenziale fortissimo ok di persone pronti ad acquistare i nostri prodotti ammesso che riusciamo a farci arrivare nel modo giusto e in maniera protetta in questo la blockchain può dare una mano ma purtroppo così come la maggior parte di tecnologie 4.0 non può essere lasciata soltanto alla singola impresa c'è bisogno di fare dei progetti strutturali che tengono insieme il mondo della ricerca scientifica e tecnologica il sistema impresa e sostanzialmente le comunità grazie 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 ti ha spiegato insomma anche no un po' che l'approccio alla blockchain allora io chiederei a questo punto a Pietro Marchionni di riprendere in mano le slide e di fare quindi questa full immersion nella parte finale della di questo incontro con eccoci qua con i token che direi che sono sono abbastanza caldo in questo momento devo dire devo ringraziare il professor Giordano anche perché ha concordo con lui che è importante che in Italia sviluppiamo gli case sulla blockchain perché non possiamo rimanere indietro su questa tecnologia e il miglior modo per non rimanere indietro è sperimentare sperimentare e vedere se le soluzioni si stanno sperimentando abbiano un riscontro operativo che funzionale e positivo da questo punto di vista andiamo a parlare dei token che sono anche in questo caso a volte associati sempre a monete virtuali ma che in realtà non è detto che lo siano un token è tendenzialmente su una cena una rappresentazione digitale di un bene fisico o di un asset cosa vuol dire io posso rappresentare ecco il pomodoro che ha fatto vedere prima il professor Giordano nel video del GRC con un token quindi rappresentarlo con un token e effettivamente quando riesco a rappresentare un bene fisico naturalmente è difficile si va pomodoro per pomodoro ma si va andrà sicuramente per forniture di tonnellate di pomodori o quello che sia affinché questo token possa essere scambiato lungo tutta la catena del valore quindi un token è come abbiamo detto una rappresentazione ma che caratteristiche ha? Tendenzialmente sono quelle di chi l'ho definito essendo un token uno smart contract e quindi a volte ritorniamo alla vecchia idea che lo smart contract sia un contratto e che non ha niente a che vedere con il concetto di contratto uno smart contract è un software e questo software in maniera opportuna opportunamente scritto può rappresentare un token che ha delle caratteristiche che sono quelle in base a quelle che è scritto col software quindi col token non ci sono caratteristiche omnicomprensive e effettivamente le community hanno cominciato a sviluppare degli standard per i token che non sono obbligatori ma che garantiscono l'utilizzatore alcune funzionalità il famoso standard ERC20 definisce regole comuni in cui i token devono aderire nel caso in cui seguono questo standard per esempio il modo di trasferimento tra le parti di approvazione di successo di dati del numero massimo di token emettibile e così via quindi un token che è compliant quindi in linea con lo standard ERC20 deve esporre in maniera chiara e trasparente tutte queste caratteristiche altrimenti è un altro token che non c'è niente di male che sia in un altro modo ma è un token che non è compatibile con questo standard molte moltissime nuove virtuali sono rappresentate con token ERC20 quindi non sono nuove blockchain come possono essere quelle rappresentate da Monero o Ethereum non Ethereum perché non è una moneta Bitcoin ma sono solo token che operano sulla blockchain Ethereum che viene utilizzata come infrastruttura sottostante ecco perché molte volte Ethereum non viene considerata una normale blockchain ma un world computer perché molte volte viene utilizzata con smart contract opportuni per girare le decentralized application oracoli e in questo contesto anche i token andiamo un attimo a vedere come sono in questo momento tipicizzati i token e ho preso le tipologie che fondamentalmente sono state usate dalla Commissione Europea perché sono definiti in tanti modi diciamo quelli che vi state scrivendo in questo momento sono quelli usati all'europeo e sono i cryptoass che sono tendenzialmente a rappresentazioni digitali di un valore di un diritto però cosa ha come caratteristica un token infatti può essere trasferito quindi io posso prendere un token che rappresenta un qualche cosa per esempio quel pomodoro o una partita dei pomodori e trasferirlo dall'acquirente al fornitore digitalmente come rappresentazione anche come ownership come proprietà naturalmente poi ci sono gli utility token che sono dei cryptoass che gestiscono per esempio un accesso è un servizio quindi sono token di utilità disponibile non disponibile ma disponibile di lt che ho scritto male ma naturalmente che caratteristica hanno che deve essere esclusivamente accettato dall'emettitore dello stesso token quindi non può essere scambiato con emettitori terzi per esempio potrei dire che un token è un token che rappresenta l'accesso a una partita di calcio oppure l'accesso a questo corso quello che stiamo facendo io potrei mettere un token per dire guardate chi ha questo token può accedere al corso tendenzialmente chi accetta questo token è solo la CRUI perché è gestito come utilità del servizio di cui stiamo facendo parte adesso altri token vengono definiti asset reference token che sono che hanno un riferimento a delle monete a delle commodity o a una combinazione di queste qua ecco perché questi chiamano anche stable coins cominciamo a andare più su token che rappresentano le monete oppure non rappresento monete ma sono uno a uno col valore del petrolio del barrio del petrolio tendenzialmente rappresento un token che ha un valore economico e questi cominciano a cadere dentro le varie regolamentazioni che si stanno sviluppando relative alle monete virtuali ultimo il money token che fondamentalmente è una moneta virtuale che è usata come mezzo di scambio e che consente di mantenere un valore stabile attraverso il riferimento a una moneta fiat per esempio al dollaro all'euro a quello che sia quindi come vediamo passiamo dai token che possano si utilizzati per partecipare a un corso come questo qui della DLT ai token che sono veri e propri monete virtuali quindi sarebbe sbagliato associare in ogni caso un token a una moneta perché sono rappresentazioni digitali di qualsiasi e quindi andando di fuori i monete virtuali che sono un tema anche molto scottante e in fase regolatoria come possono essere usati i token per esempio molti sono usati nel mercato energetico noi sappiamo adesso anche con le nuove leggi che supportano la ristrutturazione dei nostri palazzi e molte volte permettono anche di mettere pannelli solari o generatori fonti energetiche alternative all'interno dei propri proprietà le persone o i condomini o quello che rappresentano diventano quelli che si chiamano prosumer non sono più consumer non sono più consumatori ma cominciamo ad essere da un lato sia produttori che consumatori a questo punto è complesso un sistema andare a passare da un sistema in cui c'erano 4-5 fornitori di energia in Italia a un sistema in cui tutti sono fornitori e tantissimi sono consumatori un sistema così è rappresentabile e gestibile bene con una rete peer-to-peer che fondamentalmente è una blockchain i token possono essere dei valori che identificano un parametro di quantità energetica o anche un parametro di quanto questa energia può essere stata prodotta con un ponte rinnovabile e possono essere scambiati come si scambiano anche a livello globale i token i certificati verdi all'interno degli elementi climatici quindi i token come vedete possono rappresentare anche asset che sono intangibili come un buon comportamento di una persona quando va a casa e usa solo energie alternative e quindi possono essere usati per esempio anche come bonus nel caso in cui a casa mia io abbia un consumo energetico che sia chiaramente orientato al risparmio energetico per esempio i token possono essere possono rappresentare essere utilizzati per la protezione della proprietà intellettuale e l'arte sotto certi di vista e anche anche se è sbagliato dire la proprietà intellettuale perché a volte è una proprietà comune però questi token possono per esempio rappresentare una mia nuova idea e io posso trasferire la proprietà del token o l'uso del token o se il token rappresenta solo la licenza d'uso di questa proprietà intellettuale a una terza parte in maniera trasparente e chiara in modo che magari qualcuno che va a usare la mia proprietà intellettuale ha una certezza su una di avere questa licenza di uso di questa proprietà intellettuale e chi ne fa un uso veramente scorretto non possa se non on-chain dichiarare di avere la licenza di uso di quelli quindi come vedete i token vanno a livello ampissimo sotto ci sono due termini che sono molto ostici perché a volte i token si dividono anche in fungible e non fungible fungibili o non fungibili in un caso un token che può essere scambiato con un'altra asset dello stesso valore per esempio se è un token che mi rappresenta un euro posso scambiarlo con un certo naturalmente parametro di riferimento con un token che rappresenta un dollaro e quindi sono fungibili non fungibili sono token che non hanno un bravo indirizzo ma derivano dall'asset che rappresentano quindi un appartamento non è che vale sempre 100.000 euro vale in base al mercato di quell'appartamento in questo momento e non è scambiabile con un asset dello stesso con un altro appartamento magari lo posso farlo ma onestamente a quel punto porto tutto come riferimento all'euro e quindi diventa un contesto molto differente quindi come vediamo i token possono rappresentare per esempio anche l'uso di un appartamento che è in condivisione tra molti proprietari e quindi anche per esempio la garanzia che quell'uso che io faccio l'appartamento possa essere dato in questa parte le idee che si possono sviluppare in questo contesto sono infinite e non chiede adesso che le elenchiamo tutte sono solo un modo migliore per gestire e rappresentare degli asset in maniera digitale spero aver detto abbastanza sui token e vi avervi anche poco confusi andiamo a vedere come le blockchain si come si può dire intersegano interagiscono con due esempi regolatori a livello europeo e il primo che ho preso come esempio AIDAS tendenzialmente le regolamentazioni europee come anche quelle nazionali vediamo il CAD tendono ad essere indipendenti dalla tecnologia utilizzata e quindi sono costruite il più possibile in modo che non possano che non debbano andare a orientare il mercato verso una tecnologia o un'altra naturalmente quando escono nuove tecnologie con la blockchain che cambiano fortemente il modo in cui il mercato opera ci possono essere non dico dei conflitti ma delle frizioni per queste cose ok per esempio parliamo da parte di identità digitale se la regolamentazione AIDAS sicuramente non dice non va contro la stessa mani identica però in questo momento ci sono delle difficoltà a rappresentare un'identità digitale secondo la regolamentazione AIDAS attraverso una stessa mani identica attraverso un modello SELSONEL in questo contesto per esempio il regolatore quindi la Commissione Europea sta cercando di adattare la nuova versione di AIDAS non dico adattare ma fare in modo che la nuova regolamentazione AIDAS preveda il modello SELSONEL per l'identità digitale quindi è molto importante tenere in considerazione che è vero che le regolamentazioni e le nuove tecnologie possono non essere sempre allineate anche perché le nuove tecnologie corrono molto più velocemente del legislatore ma d'altro canto la nuova tecnologia può anche aiutare il legislatore a definire i nuovi modelli che sono molto più interessanti rispetto all'obiettivo della legislazione e quindi è interessante il fatto che in questo caso a livello AIDAS si stia cambiando adattando diciamo allargando la visuale con cui AIDAS vede l'identità digitale proprio per vedere il modello SELSONEL non so se c'è qualche domanda Jürgen su questo tema perché potrebbe essere magari interessante e quindi potrei rispondere on the fly domande specifiche su questo tema qui no ci sono di vario genere magari non so le vogliamo leggere in fondo come vuoi io pensavo solo su questo tema perché magari è un tema che potrebbe avere necessità contestuali no su questo in particolare no perfetto andiamo su un'altra tematica ancora più calda che GDPR ora non c'è una chiarezza su quanto sia in conflitto un sistema che utilizza la blockchain con GDPR fondamentalmente l'unico punto in cui ci possono essere dei dubbi è il concetto del diritto all'oblio cioè se io chiedo a un'entità che ha messo i miei dati teoricamente su una blockchain di cancellarli ahia questa cosa non funziona perché una blockchain come abbiamo detto è tecnicamente immutabile in realtà non è proprio così nel senso che anche per quanto riguarda i sistemi cloud e mi sembra che ci sia stata proprio una una se non mi sbaglio in Francia una causa intentata da Google a questo riguardo è vinta da Google il GDPR non chiede che il dato sia rimosso fisicamente se io metto il mio dato dentro il cloud di Google e voglio cancellarlo tendenzialmente Google quello che fa è lo dereferenzia cioè non è più accessibile ma non è detto che fisicamente deve essere cancellabile ora in servizi fatti bene in maniera opportuna anche questo può essere implementabile dentro la blockchain quindi non c'è un conflitto uno a uno naturalmente in questo momento per prudenza perché poi chi sviluppa soluzioni in blockchain e tratta dati personali ha un livello di prudenza anche un passo in più rispetto a quello che è opportuno e quindi è giusto che sia così si tendono a non mettere dati personali all'interno della blockchain ma solo dei riferimenti personali ricordo che tante funzioni della blockchain comunque per esempio in concetti senza rinidenti come diciamo prima invece potenziano l'implementazione del GDPR perché per esempio su una blockchain potrei memorizzare sia il permesso che la recessione del consenso all'utilizzo di miei dati personali e se messo a quella data con loro un posto immutabile nessuno mi può venire a dire che quel consenso o quella recessione del consenso non è stata data da me in quel momento come diciamo nel caso di senza rinidenti il principio di minimizzazione dei dati per cui io posso consentire a una terza parte di vedere nei dati un sottoinsieme dei dati sempre verificabile sempre certificabile è un'implementazione diretta del principio di minimizzazione del GDPR quindi da un lato c'è una certa frizione dall'altro c'è anche un grande capacità di implementare la regolamentazione sulla privacy grazie a queste tecnologie poi ci sono dizioni secondo me che vanno sull'assurdo quando si parla di quantum computing quando alcuni mi vengono a dire ah ma se tra vent'anni una blockchain arriva quello quantum computer e si va a vedere i dati potrebbe aprirli onestamente da un lato non mi sembra che il GDPR chieda di prevedere il futuro dall'altro grazie a Dio questi sanno che tra vent'anni c'è un computer quantistico che riesca a fare queste cose a me non risulta che sia così vicino magari farà tre per tre invece che uno più uno ma lo farà e poi mi chiedo se qualcuno dovrebbe spendere un quantistico per aprire magari il certificato di nascita tuo quando magari va al comune e se lo fa dare in maniera aperta e gratuita quindi onestamente queste cose bisogna anche contestualizzarle ricordo che ci sono funzioni esistenti oggi che sono intensicamente quanto un resistance e quindi certe richieste futuribili e poco poco pratiche sicuramente lasciano un tempo che trova quindi per ricapitolare non ci sono grandissime frizioni tra GDPR e blockchain tranne per quanto riguarda il diritto all'obbligo in questo contesto è consigliabile usare blockchain permissioned che vuol dire che io potrei anche definire ad esempio una blacklist per cui quel dato non è mai accessibile a nessuno sulla blockchain permissioned invece che pubblica e dove possibili dati off-chain non so ci sono domande a riguardo io chiedo sempre perché questo è ancora un tema ancora piccato del precedente no al riguardo no c'è qualcosa sull'identità avrei un commento Antonio sì Antonio Cisternino Università di Pisa prego dunque diciamo la questione crittografica è una questione complessa perché diciamo al di là di arrivare a quantum computer che comunque si stima diciamo essere raggiungibile in una decina d'anni per una serie di applicazioni industriali però il punto fondamentale come giustamente diceva Pietro in realtà esistono già perché se salta la crittografia a chiave pubblica sostanzialmente il problema non è la blockchain cioè salta praticamente tutto il commercio elettronico mondiale quindi evidentemente in effetti sono già alla sperimentazione degli algoritmi che diciamo crittografici a chiave pubblica che sono quantum resistant credo che però cioè vi sia una questione ancora tutta da esplorare sulla diciamo sul dischiudere le le cose le informazioni e credo che diciamo per ora siamo all'inizio perché in realtà la struttura della blockchain nasce per essere pubblica cioè in qualche modo un registro dove si va a controllare se quello che si dice è vero in modo distribuito la parte della riservatezza è una parte complessa diciamo in c'era una domanda per esempio sul voto elettronico cioè il voto elettronico la blockchain effettivamente può garantire l'integrità però una urna per sua natura deve essere quantomeno durante il voto riservata non può essere diciamo perché se uno può contare i voti mentre si vota la cosa è un pochino complicata quindi diciamo quando fanno queste è facile cadere come Pietro giustamente diceva in chiacchiere da bar dicendo o paventando che chissà cosa dovrebbe succedere fra qualche anno però credo che siamo all'inizio di un oggetto più complesso anche nella parte per esempio della contraffazione diciamo uno in questo detto qui la blockchain risolve e affronta il problema del registro di Donly che in qualche modo si condivide però se poi uno contraffa il marchio che c'è sopra che lo attacca al lato digitale su un oggetto nel mondo reale di fatto diciamo in qualche modo si può girare la restrizione qui secondo me il punto vero è che adesso intanto bisogna cominciare come si vede non è una passeggiata cioè bisogna capire tanti 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 concetti e non tutti sono stati impacchettati i token e tanti concetti che sono stati approfonditi oggi sono concetti che sono evidentemente ancora semilavorati per i sviluppatori cioè diciamo non è che se uno vuole fare l'agri-food deve sapere dei token no tipicamente c'era qualche intermediario che lo aiuta a farlo ed è ne vedremo ancora tante cioè diciamo in particolare le tecniche cartografiche sono stati studiati per tanti anni meccanismi con cui si possono cercare di risolvere per esempio Rivest che è la R di RSA quindi insomma una persona sicuramente autorevole nel mondo criptografico nel 2000 ci raccontava che stavano lavorando a dei sistemi con cui si mettevano delle informazioni dentro un pezzo di dati criptografici e poi si faceva tipo domande e risposte e quindi uno poteva decidere quante informazioni rivelare a per esempio un agente di polizia sono tutte tecniche che sono studiate alcune hanno avuto successo altre non hanno prodotto i risultati attesi però per esempio si possono incastonare o utilizzare nella zona degli smart contract quindi in qualche modo credo che la blockchain sia una splendida quernice che però va declinata e poi adattata agli usi e diciamo non è che si può venire in mano un martello tutto il resto un chiodo come diceva il saggio e questo si applica anche per la blockchain grazie grazie Antonio si condivido quello che ha detto Antonio poi fondamentalmente il ci sono funzioni anche che usiamo tutti i giorni che sono dal punto di vista ad alto livello quantum resistant perché le funzioni hash essendo funzioni polinominali di un certo tipo non sono sottoposte fortemente a svantaggio quando sono diciamo attaccate da computer quantistici quindi a volte usiamo un hash un po' più forte abbiamo risolto cioè ribadisco ci sono tante soluzioni odierne che si possono utilizzare e poi come al solito la difesa è sempre proporzionale al valore dell'attacco e quindi teniamo sempre in considerazione cosa stiamo difendendo il ops scusate quindi ricordiamoci che come diceva anche Antonio fondamentalmente è probabile che se sperimentiamo una cosa e vediamo come va possiamo riuscire a trovare una soluzione giusta la tecnologia blockchain è una tecnologia può essere usata bene o male se la usiamo bene è un grande vantaggio sicuramente se la usiamo male con tutte le tecnologie a poco senso ecco perché ho aggiunto una slide da sorpresa che non c'era ieri sera è nata qualche tempo fa IBSI che è l'infrastruttura italiana che vuole essere in linea con quella europea e quindi avendo qua una grande audience sulla pubblica amministrazione ricordo a tutti che è aperta a tutti volete sperimentare volete vedere condizioni volete lavorare insieme l'obiettivo è quello di lavorare insieme perché quando si lavora insieme si mettono a fattore comune alcune conoscenze che qualcuno ha e altri hanno meno e alla fine si raggiunge più velocemente un un obiettivo comune naturalmente il è gratuita aperta a tutte le amministrazioni come al solito è molto compliant con gli obiettivi che ci siamo sempre dati ma è una sperimentazione ecco perché noi dobbiamo dobbiamo dare quel salto in più che diceva anche il professor Giordano e che ci permette di fare di andare a vedere con i nostri occhi quello che succede domani e non aspettare sempre qualcuno ce lo dica e quindi invito tutti quanti a sperimentare a vedere cosa cosa ci porta al futuro domande e siamo arrivati alle domande se ce ne sono altre non so allora non so se vedo collegati in studio le persone del gruppo ICT della Cruy se c'è qualcuno che comunque vuole vedo Giovanni Barone sempre Federico II Antonio Cisternino appena intervenuto Valerio Faiusco insomma lo stesso Alessandro Giordano se nel frattempo vogliamo commentare un po' Sì Giorghe Sì prego Giovanni Barone Sì volevo chiedere proprio ai trambi i relatori come e se può essere utile questo tipo di tecnologie a gestire visto che siamo in un ambito Agile Cruy a un un assessorato a un a chi poi dopo veramente va a gestire il la cosa pubblica e secondo soprattutto il la vostra esperienza se secondo voi è necessario una attività più diciamo vicina al territorio intendo al comune oppure al massimo alla regione oppure partire a livello dello stato centrale perché diciamo cambia molto io ho visto delle esperienze fatte in maniera locali ma alla fine sono secondo me fallite per mancanza di un appiglio a livello di legislativo secondo voi diciamo com'è l'attuazione migliore di un piano per poter riuscire a diffondere queste tecnologie che risponde per primo Pietro Alessandro ma do il mio parere poi lascio la parola anche Alessandro fondamentalmente mi piace dire oggi fondamentalmente mi sono reso conto l'ho detto spesso è interessante la domanda che hai fatto perché ci stiamo dicendo ma in un sistema decentralizzato dobbiamo avere il governo centrale che ci dice cosa fare no sperimentiamo e secondo me dobbiamo mettere al centro sempre il cittadino e quali sono i problemi del cittadino è quello di base per cui i dati che lui possiede che sono suoi di proprietà non sono sempre disponibili non sono sempre facilmente reperibili e ogni volta che il cittadino deve andare da una parte o dall'altra deve sempre portare questi dati con sé e certificare quello che lo dice anche il principio consaglio europeo una cosa che non dovrebbe certificare il cittadino medio non dovrebbe certificare alla pubblica amministrazione non dato che la pubblica amministrazione mette perché non ha senso ora nulla contro l'istituzione perché poi ci siamo andati ieri a rifare il passaporto ai miei figli ma ho dovuto portare a fotocoprire il passaporto ma io perché devo dare a fotocoprire il passaporto alla polizia che mette il mio passaporto no? è un controcento in termini allora capisco che a volte sono procedure e quindi ci perdiamo dentro procedure che sono più formali che reali ma di base noi dobbiamo permettere al cittadino di poter affrontare i servizi pubblici in due modi uno senza portare con sé nulla di fisico al massimo la certificazione della propria identità perché il dato è sempre disponibile in qualche modo due ci sono dei servizi in cui il cittadino non dovrebbe fare neanche richiesta io mi chiedo perché il mio amico che appena ha avuto un figlio deve andare a chiedere il codice fiscale sia obbligatorio fondamentalmente mandiamoglielo direttamente quando è nato ho il certificato di nascita digitalmente glielo possiamo mandare queste cose che ribaltano il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione per cui ci sono eventi della vita tipo nascita e così via in cui il cittadino ha degli obblighi e questi obblighi essendo obblighi non dovrebbe lui farne richiesta è una folia se io vado in giro e chiedo a qualcuno tu sei obbligato a fare questo ma me lo devi chiedere e lui mi dice ma scusa mi obblighi perché te lo devo chiedere no ti obbligo ma chiedimelo non è tanto logico e quindi ti obbligo e quindi te lo do a priori io ho partecipato negli Emirati Arabi nel 2015 a un progetto sulla blockchain per cui ogni nato appena nato visto che era una toglia passaporto documento altro documento che era un documento locale di famiglia nuovo stato di famiglia e tutti i dati e lo riceve in una scatola appena nato con la versione digitale e questo secondo me è quello che la blockchain ci permetterà di fare un'unica digitale in cui la pubblica amministrazione si deve concentrare servire il cittadino più che richiedere obblighi il cittadino grazie Pietro Alessandro non so se ci vuoi Giordano se ci vuoi dire la tua ha chiuso il microfono ecco ecco certamente è come diceva Pietro vale la pena fare delle sperimentazioni ma soprattutto mettere il centro al cittadino il cittadino al centro leggendo un po' anche le domande nella sezione c'è come dire adesso il signor Ugolini c'è un problema di processo non di tecnologia e infatti è così cioè le tecnologie si innestano sull'organizzazione dei flussi questo è uno dei problemi forti che abbiamo sulle tecnologie 4.0 che spesso voglio dire non riusciamo ad avere un'architettura processuale sulla quale puoi andare ad innestare delle tecnologie tuttavia vale la pena fare delle sperimentazioni adesso a prescindere dai discorsi contro la burocrazia eccetera che mi rendo conto che debbono avere uno spazio importante che non è questo e non è quello diciamo di cui mi occupo io perché le sperimentazioni spesso sono al traino cioè fanno da traino scusatemi per l'innovazione cioè banalmente avere una tecnologia che mi dà il massimo della trasparenza su un prodotto significa andare oltre un certo tipo di certificazioni e quindi in qualche modo essere o non essere in quella tecnologia fa la differenza in qualche modo il fatto stesso che la tecnologia abiliti ad una possibilità il fatto di non essere dentro quella possibilità sta raccontando qualcosa di te mi spiego pensate quello che è successo su 2.0 su internet no questo tutti voi che lavorate nelle pubbliche amministrazioni ricordate bene che 10 anni fa era impossibile pensare a un dialogo così diretto tra cittadini e pubblica amministrazione oggi se una pubblica amministrazione non è sulle piattaforme in qualche modo sta raccontando una chiusura a un certo tipo di dialogo ma a prescindere che il dialogo sia poi costruttivo meno quindi che dire è importante fare delle sperimentazioni perché fare delle sperimentazioni in qualche modo segna il passo e oggi come ho detto all'inizio del mio intervento da Traino stanno facendo quelle grandi organizzazioni che si occupano di logistica e di brand sostanzialmente è il caso di capire se nel caso dell'agricoltura per quello che mi sono occupato è importante iniziare a fare delle sperimentazioni che tutelino anche le produzioni perché sono in qualche modo quelle che redistribuiscono valore nelle comunità in maniera anche distribuita sul territorio e soprattutto però è nella produzione che io trovo quegli impatti che sono che sono rilevanti per i cittadini il fatto che una cosa mi faccia bene o meno la salute che inquini o meno il mio vicinato che inquini o meno il panente cioè gli impatti sociali ambientali distributivi dell'economia sono quelli che in qualche modo sono il terminale più vicino al cittadino e che quindi e rispondo anche a un'altra domanda posta nella sezione diventano anche strumento di formazione e informazione cioè paradossalmente nel mentre io risolvo un problema a un cittadino e lo mettono quindi con le mani nella tecnologia perché? Perché c'è qualcosa che a lui interessa è il modo migliore per fargli la formazione e l'informazione sulla potenzialità delle tecnologie quindi per rispondere alla domanda ma è meglio un contesto locale un contesto globale nazionale sovranazionale un po' per rispondere alla provocazione invece diciamo che alla domanda che veniva posta da Giovanni e purtroppo la risposta è sempre la stessa che viviamo in un mondo adesso sempre più complesso e non c'è altro modo di governare la complessità che non sia abbracciare la complessità quindi servono entrambe le cose serve un raccordo tutto questo abbiamo bisogno come stiamo vedendo di politiche europee abbiamo bisogno di politiche nazionali ma poi abbiamo bisogno diciamo che tutto questo scenda a terra creando anche dei nuovi layer delle nuove alleanze quindi che questo abbia a che fare con l'iperlocale quindi con le comunità di prossimità ma anche con quelle che sono definite comunità di intenzione quindi paradossalmente tutti quelli che producono il grano antico devono in qualche modo mettersi in rete non soltanto con quello che accade in quel locale ma anche con tutto il mondo che è impegnato verso preservare quella biodiversità quindi io credo che siano importanti ahimè entrambe le cose diciamo è un discorso di complessità grazie Alessandro Giordano allora leggo una domanda forse Pietro ci puoi rispondere tu Aldo Cunzio ci chiede in che modo le nuove modalità di richieste di pagamenti tramite Pago.pa degli enti pubblici nei confronti dei privati possono essere strutturali all'interno di una blockchain con scambi di token in maniera sicura allora a parte che penso che in questo momento Pago.pia sia abbastanza sicuro quindi non penso che abbiamo un problema di sicurezza a quel punto di vista non confondiamo il pagamento con lo scambio perché attualmente Pago.pia prevede un pagamento diretto a fronte di una richiesta oppure di una di una multa o quello che sia dal cittadino verso pubblica amministrazione userei più i token in altro modo più che per una forma di pagamento di Pago.pa perché è quasi tautologico poi andare a usare forme di pagamento con i token dovrei avere di base virtuale poi non andiamo a parlare della banca d'Italia cosa ne pensa e tanto di più ABC quindi per il pagamento secco tra per esempio un cittadino e la pubblica amministrazione in questo momento Pago.pia mi sembra la soluzione più immediata scambio di token bisogna vedere cosa dobbiamo scambiare perché è difficile magari si può mettere sulla blockchain la prova del pagamento in maniera trasparente io ho pagato la metto lì e posso dichiarare a tutti che ho pagato in quel momento ho la certezza di aver pagato e domani se la pubblica amministrazione era a me a dirmi non ho pagato lì c'è la prova se l'andasse a guardare non me lo chiedesse proprio perché io posso dare accesso a questa prova però sì però diciamo il pagamento stesso in questo momento è prematuro finché non abbiamo una regola comune da BCE per i pagamenti di token Senti invece una domanda così c'è qualcuno che voleva parlare? Valerio? Sì volevo Prego Valerio Pagliusco Unizia di Verona Prego Ci sono alcune domande che alla fine si innestano si innestano insieme nel senso da una parte in chat è stato detto come per esempio la commissione nazionale francese per l'informatica si è intervenuta sul tema blockchain per dire che quando ci sono dei dati personali all'interno della blockchain interviene il GDPR che loro in Francia si stanno attrezzando insomma cose che saranno che si conosceranno insomma e quindi una prima domanda per dire da noi in Italia c'è un un'adeguata cioè c'è un interesse di questa di questa materia e nel caso come si sta procedendo da questo punto di vista e agganciato a questo e sempre trattando dalle domande fatte ce n'è una che chiede di applicazione blockchain quindi si in qualche modo si si aggancia al discorso privacy applicazione delle blockchain anche per le verifiche per esempio degli operatori economici negli appalti secondo il codice ecco queste due cose insieme grazie a me immagino Pietro allora parecchino è un po' vecchiotto e quindi bisogna sempre andare a guardare a quale tecnologica si riferiscono è ancora abbastanza valido ma come diciamo prima l'evoluzione tecnologica è molto rapida ci sono già approcci leggermente diversi da quello che era l'approccio ai tempi in cui c'è stato quel parere devo dire che in questo momento c'è un gruppo di lavoro a livello europeo proprio a livello di garante privacy adesso non mi ricordo come si chiama la DG europea che gestisce la parte della privacy però che non è neanche una DG a questo punto però c'è un gruppo di lavoro che sta cercando di studiare la blockchain vi dico che c'è un problema di fondo che neanche la DG Connect della Commissione Europea riesce a parlare con loro e quindi c'è il rischio che ci sia un gruppo di legislatori che cerchi di legislare su una tecnologia senza aver sentito i entrambi i casi è sbagliato bisogna sentire entrambe le parti se no torniamo ai famosi computer quantistici e quindi è importante per definire quali sono i vincoli e le necessità di implementazione che queste cose vengono fatte mano nella mano se vedete le 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 a livello di criptovalute sono state fatte così ci sono i tecnici insieme agli esperti monetari che lavorano insieme per definire quali sono i limiti di implementazione poi può succedere anche qualcosa non fatta perfettamente però si lavorano insieme ma l'approccio potrebbe essere quello anche perché poi alla fine in questo io per mia conoscenza e poi magari non conosco tutto non ho visto ad oggi un servizio sulla blockchain che abbia avuto problemi di privacy anche perché normalmente più l'elicritografazione hashing e altro devo dire che nella media un qualsiasi servizio analogo fatto fuori dalla blockchain è molto molto più sensibile agli attacchi che lo fatto sul blockchain e occhio se io vado a rubare qualcosa dentro la blockchain e posso aprire l'infrastruttura mi vado a rubare i centinaia di miliardi di euro che ci stanno dentro e non certo il certificato di nascita di mio figlio ecco mettiamola così e questo è uno la seconda domanda era scusa Valerio me la sono persa mentre rispondevo la prima era relativa all'utilizzo della blockchain per fare ad esempio le verifiche sugli operatori economici quello che prevede il codice degli appanti assolutamente sì secondo me lì esce il concetto che io devo dire forse mi sono perso in questa presentazione ma perché avevo paura che fosse troppo complesso dei trust registry nelle blockchain si stanno sviluppando le europee o anche nazionali quelli siamo tra streggi si sono i registri in cui vengono definiti chi può fare cosa ad esempio l'università di Roma può emettere lauree in ABCDF ok il ministero della sanità può fare questo il comune di vatte la pesca può fare altro questi trust registry sono i famosi source trust ecco perché siamo trust registry che permettono di definire se quello che trovo perché prima ne stavo detto giustamente che se nella blockchain c'è scritto una sciocchezza la sciocchezza rimane di correare quello che c'è scritto sulla blockchain al fatto che chi l'ha scritto è l'organo competente per scrivere quella cosa a quel punto io comincio a dire ma all'interno di un contesto di una gara pubblica l'emettitore l'azienda perché poi non è un problema in blockchain è di identificare gli attori chi mi identifica è quella è proprio l'azienda che ha messo quella gara all'interno della blockchain quel giorno in quell'ora noi dobbiamo non solo pensare alla tecnologia ma pensare anche a come la tecnologia si interraccia con il mondo e quindi io devo avere un sistema di identificazione certo di chi opera all'interno della blockchain e quindi è lì il fattore ma poi quando l'ho messo ho risolto tutto perché se ho messo un bid su una gara sulla blockchain non certo vado a modificarmi in nessun modo senti Pietro Simone Malizia ambito universitario ci chiede per quanto riguarda l'università in particolare il passaggio di Ateneo degli studenti è possibile pensare ad una blockchain tale per cui agli studenti non vengano richiesti certificazioni di percorsi accademici conclusi? ma di base ricade nel concetto che facevo prima in cui in tendenza il cittadino non dovrebbe fornire nessun dato a nessuno tanto meno a quello che l'ho messo e quindi sono le università che dovrebbero parlare tra loro però io qua voglio fare una distinzione la blockchain dice come da punto di vista concettuale che il dato è dello studente è suo lui ha superato quel percorso accademico lui ha avuto un risultato può essere usata la blockchain da lui per condividere il dato con il secondo Ateneo e questa è una soluzione che sta verificata per l'implementazione del principio OneSolid europeo che ha fallito il primo qual è il principio OneSolid europeo che se io ho un certificato in Italia posso andare in Germania con il certificato e darglielo e obbligo della pubblica amministrazione di Tresca andare a verificare con la pubblica amministrazione di Tresca il certificato e il certificato non riusciamo a far parlare pubblica amministrazione italiana e pensa a tutte quelle europee a livello di complessità era tale per cui non ci sono riusciti neanche prendendo rischi più semplici nel mondo qual è l'ultimo approccio e metto il cittadino al centro l'ente pubblico italiano dà al cittadino un certificato delificabile con il referbo credential che abbiamo discusso anche l'altra volta se mi ricordo bene se no la prossima e quel cittadino le condivide con l'ente dell'altra nazione e quindi il cittadino al centro le due enti pubblici non si devono parlare da soli devono solo essere certi che chi è emesso con il certificato è lo stesso e torniamo al discorso e trastraggessi di prima mettendo il cittadino al centro come diciamo quella cosa che ha chiesto Simone è fattibilissima ringrazio per la tua risposta ce ne sono altre domande mi sembra tutte più o meno dello stesso tenore perché Marco ci chiede quindi la tecnologia del genere potrebbe essere utilizzata per certificare il Green Pass ed essere utilizzata le PIA per scambiare servizi al cittadino insomma una domanda mi sembra sempre che faccio un esempio proprio tanto per essere distruttivo in questo momento tanto per rompere le scatole a tutti perché è tardi ma se io devo fare un certificato Covid ma la blockchain posso migliore dover metterlo perché è mio lo gestisco io lo condivido in maniera sicura lo condivido con chi voglio e non sta dentro un ente emettitore in giro per l'Europa poi giustamente secondo me la tecnologia del blockchain in questo momento è abbastanza giovane da portare dei timori per sviluppare una cosa del genere a livello europeo e quindi dare la certezza a tutti che non ci siano attacchi non alla tecnologia ma al modo in cui viene risolta però da punto di vista logico è quello il fatto che il certificato è tuo te lo gestisci e lo condividi con chi vuoi perché poi se un grand pass un certificato Covid non cambia molto la scalabilità e l'interabilità le blockchain sono molto scalabili ormai il concetto di scalabilità è un problema molto molto orientato a certi tipi di blockchain e l'interabilità e chiudo qua il discorso si fa non dentro la blockchain è un interabilità per definizione perché tutti possono vedere col dato è come è scritto col dato e quindi l'interabilità è alla sorgente scrive col dato in un formato che si uguale per tutti e quindi tutti lo possono vedere va bene allora io mi avvierei alle conclusioni anche perché siamo in orario direi abbiamo dato lettura anche a un po' di domande vedo le persone ancora tutte lì collegate nonostante i token e i vari argomenti di cui abbiamo parlato oggi allora vi ringrazio tutti intanto ringrazio Pietro Marchionni come sempre diciamo per la sua chiarezza espositiva per la sua pazienza anche soprattutto poi per rispondere a tutte le domande ringrazio Alessandro Giordano della Fetica Secondo di Napoli tutto il gruppo ICT che vedo schierato nel nostro studio oggi vedo Giovanni Barone Valerio Paiusco e Antonio Cisternino vi ringrazio tutti chiaramente grazie ad Agid con cui abbiamo queste iniziative congiunte e vi do di ricordo che la registra sarà poi resa disponibile sul nostro sito proveremo a rispondere anche alle vostre domande vi abbiamo sottoposto la survey vi prego compilata così sappiamo insomma se stiamo andando bene e soprattutto potete chiedere l'attestato rimarrà aperta la survey ancora per un po' per la giornata in modo tale che avete il tempo di compilarla non chiedeteci proroghi ed erro che non ho compilato ma c'è insomma fatelo adesso se è possibile altrimenti mai più e vi do appuntamento poi a martedì prossimo se non sbaglio con l'ultimo incontro sì Antonio Cisternino che è il un attimo soltanto no devo parlare prima che allora Antonio che si è preso l'incarico nel sottoscala qui della Cruy stampa la notte gli attestati perché voi dovete sapere che siete adesso a partecipare ad ogni ciclo siete diciamo almeno 3.000 persone univoche quindi questo è il tenore degli attestati che produciamo ad ogni ciclo per quello non le facciamo soltanto a fine ciclo e soltanto con un po' di tempo in più che ci prendiamo e abbiamo o no una cosa vi ho dato la parola abbiamo messo sul nostro sito un'apposito form vi prego qualunque cosa che riguardi gli attestati compilate quello non scrivete ai nostri indizi e mail perché altrimenti poi capite che è un è un lavoro incredibile soltanto i nostri vostri prego Antonio allora no un appello quando riempite il form cortesemente usate sempre lo stesso indirizzo e mail e assicuratevi di scriverlo completamente come se lo avesse scritto per mandare un'email perché buona parte del tempo per cui poi dopo ci mettiamo tanto è che ci sono una quantità incredibile di errori di battitura eccetera che fanno sì soprattutto sugli appuntamenti ciclici che non vi appaia diciamo nel certificato magari un evento perché avete scritto per quel particolare evento il l'indirizzo e mail sbagliato che noi usiamo per raggruppare gli attestati quindi per favore fate attenzione come fate perché diciamo adesso d'ora in poi per accelerare la generazione degli attestati non emenderemo più quindi quello se dentro c'è un indirizzo e mail non valido pace va bene con questa con questa notizia importantissima direi che vi saluto tutti e vi do appuntamento alla settimana prossima arrivederci e vi do appuntamento